Una scuola di due settimane è una grande opportunità per il Santa Chiara Lab per incontrare professionisti e studenti di tutta Italia che non solo devono essere ambasciatori della sostenibilità ma devono lavorare nei loro ambienti, nei loro posti di lavoro per trovare delle soluzioni perché i goals, i 17 SDGs sono collegati a delle soluzioni che ognuno di noi nella propria vita quotidiana deve portare avanti. Noi al Santa Chiara ad esempio abbiamo scelto la sostenibilità ambientale e la riduzione degli sprechi come goal concreto da applicare all'interno della nostra amministrazione. Grazie a tutti.